La salma è stata restituita ai familiari ad occuparsi dei funerali di Carla Maria Vittoria Bazzani, la 92enne ritrovata senza vite in un appartamento di via Montanara nel quartiere di Saione, sarà una nipote. Il Lullaosta è arrivato a seguito dell'autopsia svolta dal professor Mario Gabrielli dell'equip di medicina legale di Siena, che ha escluso la morte violenta. L'anziana sarebbe deceduta per cause naturali. L'accertamento avrebbe poi confermato le prime indiscrezioni fornite dalla ricognizione cadaverica effettuata ad Arezzo. La morte risalirebbe dunque ad un periodo compreso tra 3 e 6 mesi. Per risultanze più approfondite, secondo quanto emerso, occorrerà invece attendere una settimana. La 92enne era stata ritrovata lo scorso 31 agosto in avanzato stato di decomposizione, coperta da un lenzuolo nell'appartamento nel quale conviveva con la figlia di 60 anni, alla quale la procura contesta anche il reggiro all'Inps. Avrebbe infatti utilizzato i soldi della pensione versati nel conto dopo il decesso dell'anziana. La donna era già iscritta nel registro degli indagati per abbandono di persona incapace. La 60enne sarebbe stata a casa sino allo scorso luglio, quando era stata vista allontanarsi con un trolley destinazione Rimini, dove poi è stata rintracciata lo scorso lunedì dagli uomini della mobile di Arezzo. Sono stati svolti infine accertamenti anche sulla carcassa del gatto, ritrovato senza vita sempre all'interno dell'appartamento accanto alla salma dell'anziana.